Il 28 giugno lei stringerebbe la mano alla Meloni se dovesse venire qui, dice firmiamolo insieme l'accordo? Io stringo la mano anche al diavolo, basta che firmi l'accordo di coesione e ci metta in condizione di lavorare. Guardi sono arrivato al punto che non chiedo neanche le scuse per l'insulto che abbiamo ricevuto il 16 febbraio e di cui non si è accorto il mondo dell'informazione italiana. L'unico insulto vero era quello, l'unico insulto pubblico. Sono pronto a stringere la mano, ad abbracciare tutti, ovviamente poi in privato farò altre cose.